Documentare vuol dire fornire prove sull'evidenza, sull'effettiva dimensione degli argomenti di cui ci si occupa. In realtà questo è un tema che è molto importante ma anche molto trascurato dall'informazione oggi. Cosa può fare un centro di documentazione? Probabilmente occuparsi dei mediatori, dei mediatori della conoscenza e dell'informazione nel senso di riuscire ad arrivare alle fonti attraverso le quali i decisori in qualche modo orientano le loro scelte, arrivare alle fonti attraverso le quali l'informazione produce la propria offerta al pubblico più o meno largo e fare in modo che gli operatori, in questo nel nostro caso gli operatori della salute, abbiano da una parte le informazioni e dall'altro gli strumenti per fare una buona comunicazione degli argomenti della promozione della salute. A me sembra che siano un po' questi gli aspetti fondamentali. Penso che sia abbastanza illusorio pensare che un centro di documentazione possa trasformarsi in un'agenzia di informazione per il grande pubblico. Però secondo me lavorando su quelli che sono appunto i mediatori di queste conoscenze qualche cosa può essere fatto. Dinamico, fedele all'innovazione, collaborativo e collaborante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.